In questo mercoledì 18 settembre ospite qui a Serinfesta lo staff dello Small di Cerea. Benvenuti a Michele e Daniele. Grazie, ciao. Eccoci qui ragazzi, finalmente siamo pronti per partire con la stagione invernale. Abbiamo appena concluso la stagione estiva, so che avete un distaccamento da Cerea a Legnago, ma ne parleremo più avanti perché siamo pronti per cominciare con la stagione invernale. Innanzitutto Michele, raccontaci un po' questo Small, quanti anni ha? Perché sono curiosa. Il nostro è un locale storico, dal 1956, siamo la terza generazione, siamo partiti con i nonni, poi mio padre, mio zio, adesso ci siamo io, anche mio fratello, è quasi 60 anni ecco. Quasi 60 anni, dunque chissà quante orchestre sono passate, quanti ballerini. Passiamo la parola a Daniele, meglio conosciuto come DJ Dani, che fa ballare tutti quanti gli amici dello Small. Cosa proponi nei tuoi serati? Sì, allora, scelgo il repertorio in base alla clientela che vedo. Chiaramente giovedì noi vorremmo dare precedenza ai singoli, quindi i pezzi che vanno per la maggiore adesso, cioè cumbie, baciate, lenti, moderati, anche a luce spenta, questa è un'idea mia che al momento giusto farò partire. Comunque si parte chiaramente con un pochino di liscio per i veterani del ballo, per i nostri fedelissimi amici che sono sempre, sempre, sempre con noi, e che ovviamente saluto, quindi un po' di liscio, cioè mazurka, tango, valserlento. E poi a mano a mano che arriva la clientela, diciamo quella che noi aspettiamo molto volentieri per tirare tardi, si parte con le cumbie, ripeto, le baciate, i moderati, i lenti, un po' di balli di gruppo e a mia preferenza anche la discoteca a una certa ora non guasterebbe. Quindi 360 gradi di musica. Bene, complimenti veramente. Ricordiamo che giovedì è di ingresso gratuito, dunque una bellissima iniziativa per tutti quanti. Uomo o donna, dunque proprio libero, specifichiamo in tutte le lingue free. Forte, aperte. Per tutti allo Small. Mentre il sabato sera è la serata dedicata alle orchestre, infatti prossimamente abbiamo l'orchestra di Enzo Allegri, salutiamo Enzo ed Elena, precisamente il 28 settembre allo Small. Allora, mi raccomando ragazzi, una bella serata con Enzo Allegri e orchestra e con l'occasione tra poco manderemo proprio un loro video dalla voce di Elena. Allora io vi faccio un in bocca al lupo per questa stagione, verremo sicuramente a trovarvi e così di sicuro anche gli amici di Seri in Festa, perché come dicevamo i locali nel Veronese sono sempre carenti, dunque portiamo in alto lo Small e so che... Ti dico una cosa, vengo a suonare molto volentieri in queste zone, la gente è molto godere, c'è la voglia di divertirsi, questa è una cosa che ho notato subito. È vero. Michele, volevi aggiungere qualcosa? Vi aspettiamo numerosi, lo Small e tutto lo staff, sempre con il nostro calore e l'atmosfera della famiglia. Grazie a voi e buon lavoro. A presto, ciao. Ciao. Ciao.